Tra l'altro non c'è un'amica, ne uso. Mi serve in grado 2 per cui l'ho fatto tanto per mescolare il mazzo. Mi sembra tutto. Perfetto. Perfetto. Prendolo. Eccolo qua. Pesco. Tipo il suo talento. Niente successo. Settemilano. Si. Prendolo. Mi piace molto. Prendolo. Quindici. Settemila. Credita Paolo. Settemilano leggi. Settemilano leggi. Settemele. Settemilano leggi. Sedici. Settemilano leggi. Settemilano leggi. Non mi piace, non mi piace, non mi piace, mi piace, che mi trovi giuro, certissimo, ti attacco la sinistra e l'eleva 3, ma lascio passato a fare, ci pesco, e l'inesco d'assalto? Quello dovrebbe essere l'inesco passato, no, quando colpisce, come io lo faccio prima, si ma questo è il Vanguard, quando colpisce, la prima del Vanguard è l'inesco, no, prima c'è l'inesco, prima colpisce poi l'inesco, no, prima c'è l'inesco, prima c'è l'inesco, per questa età colpisce, allora questo, prima l'inesco, attivo, 1, 2, 3, mi piace, intanto lo stendo e pesco, sapi che mi è piaciuto tantissimo, poi pesco, non te lo faccio vedere, 10, questi sono 16, e qua, bomb, sono 10, più 5.000, 11, 16, sono già 14, Madonna mia, 9.000. Un 3.... Che scopo ? stella di negro un po' di ignoranza ci sta 20 effetti 20 vantaggi un bel clip e dai è campo pieno so che ti piace ti attacco alla vetro dando 4.000 a lui subisco ti attacco il vanguard dando 4.000 a lui ecco qui l'amico di tutti i bambini più 5 16 16 il mio per un 8.6.14 4.18 per cui tutto c'è una bella cartonare ok quindi sono 16 vanguard 16 si chiero chiero va bene G1 G2 9 su 8 sono 11 con l'Italia di Kirara tipo 2 che scolgono si spacca ce l'ha si quando spacca quando va a segno l'attacco si appunto non sapevo cosa intendeste per quando spacca 5 sono termini nuovi 11 11 in all in semplice si inizia lui perchè lui si stappa quando colpisce si no c'è questo è la vita della break ride quando ci convoco sopra qualcosa adesso cos'è che fa quando colpisce non fa niente è attaccato singola non fa niente quanto sono 11 si quanto sono 11 puoi mettere uno in animo ecco no mi da fare io sono ok fatto 11 attiva anche l'effetto tolgo 3 e scopro posso? è l'effetto che ti tiro la break posso metterlo 11 sulla retro 11 sulla retro ok tocca 2 3 e pesco va bene intanto posso controllare anche a qualche mia schia è rivelato con un euro si ancora con un euro 1 2 prendete il 10.000 giusto? no c'è una scala si c'è una scala 3 c'è un minuto a me questo controllo un attimo critico scusa posso leggere 1 qua ce ne sono 2 va bene prendo ok G2 e G1 lasciamo a vedere così più 5 Vanguard ok 17 retro io stendo e pesco con 23 6 chiamo P10.000 e tiro loro 2 poi che non ci sia affetto suo poi che sia un po' di sensato per me intanto prima la devo pescare scusa per essere proprio questo suo adesso c'è il pezzo adesso c'è il pezzo quindi magari andando 4.000 qua esco vale questo qua c'è questo qua d'accordo io tappo l'altro venti d'accordo con venti se vuoi smazzare? va bene vai va bene vedi che Tommy si è fatto dal tappo di schiero schiero e schiero affetto suo tappo 2 guadagna anche più 5.000 sono 16.000 su di noi quindi sono 26.000 doppio cretto vangar già sono due dagna questi sono 13-19 e questi sono 18 questo ha due dagna 15 cret power sono 3 danni vado a vincere il tappetino non ho potuto niente questa volta ha vinto impunenza dei dinosauri e dire che c'è sono partito anche lento potevo fare molto più costo sono partito anche lento a kibastop fermata obbligatoria per tutti gli appassionati di fumetti collezionismo giochi di società e cultura giapponese a kibastop piazza Giacomo Matteotti 28 Alessandria a kibastop seguiteci su facebook youtube e www.akibastop.it 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 se niente